Da quando le marche sono tornate in zona gialla, anche il movimento nei negozi cittadini di Fano piano piano è ripreso. Siamo andati a sentire il parere dei commercianti. I tempi non sono più quelli del passato. La pandemia ha cambiato anche il modo di lavorare dei negozianti, la maggior parte dei quali ha sempre tenuto aperto anche in zona arancione, ma con incassi ridotti al minimo. Da quando le marche si sono tinte di giallo, con la riapertura di bar e ristoranti qualcosa è cambiato anche per loro. Non per tutti ovviamente. Qualche cliente ha risposto bene ed è tornato a fare acquisti, altri ancora stanno aspettando il momento giusto. Diciamo che ci sono segnali positivi perché la gente ha voglia di normalità e quindi inizialmente c'è stato un buon afflusso, poi il tempo non ha aiutato perché la primavera tarda ad arrivare, però come si affaccia un po' il sole aumenta anche il movimento. Quindi siamo fiduciosi nella stagione che sta per arrivare. C'è poco movimento, poco turismo, però i nostri clienti ci premiano sempre, quindi è già un segnale importante. Il movimento ce n'è di più naturalmente perché la gente si sente più libera di girare, di passeggiare, diciamo così. C'è una cosa molto diversa dalla zona rossa specialmente e anche arancione perché allora zona rossa e zona arancione la gente guardava dalla porta, magari passava se c'era una persona, aspettava, molto titubante. Adesso invece si sono un pochino più sciolti, sono più tranquilli anche se devono provare con tutte le norme. Noi facciamo sempre cotton fioc, usa e getta, non facciamo mai provare i prodotti direttamente dal tester. Dopo quando c'è il mercato c'è un pochino più di afflusso, tipo stamattina c'è un po' più di gente in giro. Le vendite non è che siano così decollate in maniera esponenziale perché comunque hanno paura, soldi non ce ne sono tanti, molta gente ancora non lavora, molti sono in casa integrazione. Noi soffriamo tanto come piccoli negozi insomma. Ma movimento c'è pochissimo in giro, si è smosso un pochettino nel weekend, primo maggio, due maggio, quei giorni lì un pochino, se no movimento ce n'è poco veramente. Sarà che poi il nostro articolo è soggetto anche alla stagione, ancora non è caldo.